Sì, allora, buongiorno, 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 siamo qui, siamo qui riuniti a Malbacco per divertirci in questa cascata, guardate la cascata, alta 20 metri, 20 metri, guardate in cima chi si sta tuffando, signore, inquadra quei ragazzi, signore, guardate, un nome di Christian, un sedicenne, Ma qui abbiamo Angelo, guardate Angelo, che si emoziona, la scalata, senta la scalata, ti devi muovere, guardate, seguite il percorso, il percorso, seguite, guardate, una scata verso un milione, guardate queste foche, questa cascata bellissima che si affaccia sul cuore del Mediterraneo, Eccoli, spuntano dalla cascata, si vedono, eccoli il primo, Emanuel, un ragazzo di 18 anni, prova il tutto per tutto, e il secondo, Christian, un Christian, sedicenne, mannaggia capatò, mannaggia capatò, mannaggia capatò, Il ciccione, il ciccione, il ciccione, il ciccione ci mette tre ore, per stare in questa cascata di alto 10 metri, 20 metri, ricordiamo, non 10 metri, Ah, 20 metri, eccoli, tutte e tre, ma sta da 10 metri, lo so, 20 metri mettiamo, 20 metri, e va già trattato, è stata già trattato, eccoli, i tre dell'Ave Maria, Il culo, 50 secondi, 50 secondi, muoviti, cri, vai, 4, 3, 2, 1, maccoli, vai, stacco, 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 Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.